Alfa Caravan, il più grande parco veicoli nuovi ed usati in Sud Italia. Da noi troverai un'ampia scelta di veicoli nuovi ed usati, gli unici a darti due anni di garanzia anche sull'usato. Vi aspettiamo presso la nostra nuova sede a Siracusa, con trada spalla, zona commerciale Oshan, centro europeo Alfa Caravan.